dal vangelo di giovanni in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi non vi lascerò orfani verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete in quel giorno voi saprete che io sono nel padre mio e voi in me e io in voi chi accoglie i miei comandamenti e li osserva questi è colui che mi ama chi ama me sarà amato dal padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui se ci pensate sembra tutto così semplice basterebbe semplicemente amare dio e lui abiterà nel nostro cuore alla fine seguendo questo vangelo è semplice ci dice che se seguiamo i suoi comandamenti noi vivremo nell'amore vero di dio è come se gesù cristo prima di andarsene ci avesse dato un libretto di istruzioni e ci avesse detto guardate ragazzi se voi seguite questo vivrete con me per sempre che regalo grande dice che ci darà anche un altro paraclito che significa colui che sta vicino praticamente un difensore quella persona che sta dalla nostra parte nonostante tutto cavolo lui ci consegna un kit per amare veramente dio e così amando dio amiamo anche gli altri e il paraclito è lo spirito santo è l'amore con cui noi amiamo dio un dono che egli ci fa per riuscirlo ad amare completamente ci fornisce tutto tutto per poter essere in lui e lui in noi come dice poi io sono nel padre e voi siete in me e dio in voi e basta semplicemente questo non ci lascia mai da soli ci consegna qualcosa per poter essere sempre in lui e lui in noi dio abita in noi nonostante tutto nonostante i nostri errori nonostante le nostre malizie nonostante tutto quello che combiniamo lui ci accetta per come siamo secondariamente spiega come poterlo amare incondizionatamente e amarlo sempre di più amando gesù cristo seguiamo i suoi comandamenti e seguendo i suoi comandamenti impariamo ad amarlo cioè provate a pensare tanto più viviamo questo mistero tanto più siamo uniti all'amore di dio è tutto così semplice grazie a tutti